Eee what's up a tutti ciurma e benvenuti raggiocherina in questa nuovissima reaction Ebbene ragazzi quest'oggi cambiamo genere diciamo così cambiamo un pochettino il registro perché non andremo a guardare un trailer che riguarda un videogame bensì andremo a guardare un trailer che riguarda un film precisamente un live action dal titolo del video ovviamente ragazzi avete capito che si tratta del nuovo live action Disney che riguarda Biancaneve e i Sette Nani perché la reaction a questo trailer ragazzi lo sapete benissimo non sono nuova a fare reaction anche a trailer di film o a fare recensioni riguardo i film perché chi mi conosce bene sa benissimo che io amo anche il cinema e amo anche la Disney tra l'altro perché ragazzi la Disney comunque ha fatto parte della mia infanzia barra adolescenza e nonostante la mia attuale età adulta fa comunque ancora parte della mia vita quindi ho un amore veramente molto profondo per la Disney o perlomeno per quelli che sono stati ragazzi i cartoni animati quindi i classici Disney quindi parliamo comunque di film animati più che altro di tanti anni fa che tutti quelli della mia età probabilmente o la maggior parte di essi hanno imparato ad amare quando erano piccoli per cui sono particolarmente affezionata alla Disney ai prodotti Disney non tanto ai live action se devo essere veramente sincera ragazzi io in effetti ho guardato credo praticamente tutti i live action che sono stati pubblicati dalla Disney in questi ultimi anni e di tutti quelli che appunto sono stati pubblicati ragazzi io credo che me ne siano piaciuti veramente pochi anzi forse probabilmente quelli che ho trovato più carini ragazzi sono uno o due io non credo più di due non so effettivamente adesso neanche quanti ne abbiano fatti perché ne hanno fatti diversi il punto della questione ragazzi è che questo live action in particolare dopo la sirenetta direi ha creato particolarmente scalpore sin da quando sono state fatte vedere probabilmente le prime immagini o perlomeno da quando è stato rivelato ragazzi chi sarebbe stata l'attrice che appunto avrebbe interpretato Biancaneve la nostra Biancaneve si tratta ragazzi di un'attrice che non rispecchia fisicamente parlando quello che dovrebbe essere in effetti il personaggio della fiaba originale ok e qui ragazzi si potrebbe stare a parlare per ore di tutta la questione che ruota attorno a Disney e il politically correct degli ultimi anni perché è da un po' che in effetti la Disney sta abbracciando particolarmente forte questa idea del politically correct che non insomma questione che non voglio affrontare oggi non voglio affrontare in questo video perché comunque si tratta di una reaction quindi non siamo qui per fare discorsoni allucinanti però questo ragazzi per fare la premessa è dire che comunque questo live action è stato particolarmente discusso già solo appunto da quando è stata divulgata questa notizia inoltre dopo che appunto ragazzi è stato fatto vedere chi sarebbe stata l'attrice protagonista c'è stata un'altra grande questione riguardo quello che sarebbe stato l'aspetto dei sette nani inizialmente anche questa era stata una cosa molto discussa perché si diceva inizialmente che la Disney non volesse inserire le figure dei nani bensì volesse inserire figure di creature magiche così erano state definite inizialmente ed era stata anche mostrata un'immagine di queste presunte sette creature magiche che comunque aveva un aspetto umano ma ragazzi cioè non si capiva effettivamente queste creature magiche che cosa dovessero essere e quindi anche lì si è sollevato un altro immenso polverone ed è stato proprio lì che secondo me la Disney ha deciso di fare un piccolo passo indietro infatti il film poi è stato anche rimandato perché se non erro avrebbe dovuto essere pubblicato ragazzi proprio quest'anno nel 2024 invece era stato rimandato perché evidentemente la Disney ragazzi aveva dovuto rimettere mano un po' a tutto visto l'immenso malcontento sui social mostrato comunque dal pubblico ok quindi ha dovuto rimettere mano un po' a tutto specialmente appunto io credo alle figure dei nani barra creature magiche io adesso non so cosa hanno fatto in effetti per questo anche sono curiosa un po' di guardare questo trailer però se non erro alla fine la Disney si è decisa ad inserire effettivamente quelle che sono le figure dei nani così come lo erano nella fiavo originale così come lo erano nel film animato originale che tra l'altro è stato il primissimo film animato ragazzi pubblicato dalla Disney in assoluto quindi questo film dovrebbe avere anche un una certa importanza un certo significato per la Disney e quindi forse alla fine hanno deciso di non voler fare troppi passi falsi o perlomeno di non azzardare così tanto anche perché diciamocela tutta ragazzi attualmente la gente si è un po' rotta ai maroni di questo benedetto politically correct che è stato inserito veramente a profusione appunto negli ultimi live action della Disney e questa cosa aveva creato un certo malcontento nel pubblico infatti se non sbaglio la Disney ragazzi ha registrato anche una certa perdita economica negli ultimi anni e quindi probabilmente un paio di domande se le staranno facendo però non so quanto in effetti per i prossimi live action poi la Disney deciderà di fare passi indietro riguardo perlomeno il politically correct perché appunto la gente si è un po' stufata di vedere snaturare ragazzi quelle che sono comunque le fiabbe anche originali effettivamente e qui si potrebbe ragazzi stare a parlare del fatto che anche i film animati in qualche modo comunque snaturavano quelle che erano le fiabbe originali e su questo posso anche essere d'accordo però ragazzi comunque si parlava di film animati comunque film che erano indirizzati principalmente ad un pubblico di bambini quindi il fatto che per esempio la sirenetta sia diverso dalla fiabbe originale un po' lo posso capire per quanto riguarda il film animato originale perché ragazzi alla fine la fiabbe originale era estremamente tragica quindi ovviamente chi gli fai vedere è bambini gli fai vedere un finale tragico beh direi di no anche le altre fiabbe comunque originali erano particolarmente macabre da certi punti di vista drammatiche quindi erano state un pochettino rivisitate per renderle comunque per i bambini carini ragazzi non troppo traumatici per i bambini ok però qua parliamo ragazzi di cambiamenti comunque importanti uno dei cambiamenti più importanti è stato fatto appunto con la sirenetta perché lì c'è stata una rivistazione particolarmente importante perché comunque la sirenetta ragazzi è una fiaba scritta da anderson comunque che era danese quindi parliamo di un paese nordico e la sirenetta nel live action è stata interpretata appunto da un'attrice di colore e se non sbaglio il live action è stato anche ambientato in un luogo che è più o meno caraibico una roba del genere quindi c'è stato uno stravolgimento allucinante quindi già lì ragazzi parecchia gente ha storto il naso vi ripeto io li ho guardati tutti per pura curiosità ma sinceramente adesso a prescindere comunque dal politically correct non mi sono piaciuti non mi sono piaciuti gli ultimi live action perché non mi hanno trasmesso assolutamente niente non lo so ragazzi quindi comunque mi hanno puzzato principalmente e quindi alla fine avevo detto che non avrei voluto fare un discorsone su tutta questa questione però ragazzi bisogna parlarne di queste cose ok quindi sono curiosa di sapere anche quali sono i vostri pareri riguardo tutte queste questioni ovviamente quale sarà il vostro parere riguardo questo trailer quindi direi che abbiamo parlato anzi perlomeno ho parlato abbastanza il trailer dura un minutino poi ne parleremo ovviamente a trailer finito quindi non perdiamo più tempo e andiamo a guardarlo ok 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 provate a fischiettar specchio servo delle mie brame chi è la più bella del reame ok esce a marzo ok ragazzi allora mi tolgo le cuffie perché si schiatta se no ragazzi sono un pochettino perplessa allora si è visto anche il principe così proprio di sfuggita e mi sembra di aver visto l'hanno fatto biondo quando comunque nel film animato il principe aveva tipo i capelli neri roba del genere ma questo ragazzi sinceramente poco importa cioè sono veramente piccolezze sono un pochettino perplessa perché non so tanto che pensare allora c'è stata anche una grossa questione riguardo il fatto ragazzi che la regina cattiva dovrebbe essere gelosa della bellezza di biancaneve ok e quindi c'è stata tutta questa questione sul fatto che la regina cattiva sia stata interpretata da galgadot che è una donna estremamente affascinante anzi molto bella io oserei dire mentre la ragazza che interpreta biancaneve alcuni dicono che non sia tutta questa gran bellezza io concordo da questo punto di vista però lì poi ragazzi sono pareri personali ovviamente quindi fa un po' ridere tra virgolette il fatto che questa regina cattiva che è di una bellezza disarmante sia gelosa di questa ragazza che effettivamente tutta questa bellezza cioè sembra non avercela ragazzi però appunto lì il parere è soggettivo quindi a prescindere da quello devo dire che la gadot nei panni della regina cattiva mi piace cioè ha la faccia giusta secondo me mi è piaciuto moltissimo anche il costume ho visto insomma questa corona devo dire che mi è piaciuto nell'aspetto della regina cattiva mi è piaciuto davvero molto l'aspetto di biancaneve ragazzi un po' meno il vestito che le hanno messo sì un pochettino ricordo ovviamente quello del film animato non mi convince moltissimo sinceramente magari avrebbero potuto farlo in maniera un pochettino diversa però anche questi sono dettagli di poco conto effettivamente perché vi dicevo che sono perplessa perché non so tanto che pensare se mi è piaciuto o non mi è piaciuto se mi ha convinto o non mi ha convinto perché ragazzi allora io i film animati della disney li conosco pressoché a memoria veramente a memoria ragazzi anche le scene cioè è difficile fregarmi sui film disney ok e quindi in questo trailer ho visto parecchie scene che ricordano moltissimo quelle del film animato anche altri dettagli ad esempio quando biancaneve entra nella casetta dei nani e sale le scale c'è stata un'inquadratura aspettate che vedo se la ritrovo ecco ragazzi allora questa inquadratura qua dei gradini cioè per farvi un esempio stupido ok però è un dettaglio che io ho notato i gradini sono identici a quelli che si vedono nel film animato perché appunto io ho una buona memoria fotografica ricordo bene che appunto sul lato dei gradini c'erano questa sembra credo sia la rappresentazione della faccia di un gufo e quindi ho notato anche questo dettaglio ad esempio ovviamente quindi ragazzi abbiamo avuto la conferma che hanno inserito i sette nani e sono i sette nani c'è anche quest'altra scena in cui ballano tutti insieme anche se sto notando che qui stanno facendo le pulizie tutti insieme se non sbaglio sì vedete stanno hanno rimesso stanno mettendo a posto la casa tutti insieme mentre lei solo balla e canta anche qui ragazzi poi subentrano altre argomentazioni un pochettino spinosa al giorno d'oggi perché nel film animato ovviamente era biancaneve che rassettava che puliva assieme all'aiuto degli animali ma era lei principalmente che decideva di mettere a posto la casa e di pulire quindi la si vedeva spazzare ok però oggigiorno siccome questo non sarebbe molto corretto nei confronti delle donne perché il ruolo delle donne non è solo quello ragazzi di pulire di rassettare di pulire la casa perché oggigiorno ovviamente girl power a manetta pure questa è un'altra questione assieme al politically correct ma non mi ci voglio soffermare troppo ovviamente non potevano nel live action del 2025 far vedere biancaneve che spazza e pulisce aspettando che tornino gli uomini a casa ovviamente no quindi questa è una cosa che sto notando adesso hanno fatto sì che invece fossero gli uomini a pulire e a rassettare mentre invece lei è lì che danza e canta e si diverte ok questa è una cosa che ragazzi mi fa storcere un po' il naso però vabbè un po' stica no effettivamente per il resto stavo guardando ecco altre scene ragazzi quindi come vi dicevo poco fa ho notato tante scene che assomigliano a quelle delle live action tipo ad esempio quando la regina cattiva ragazzi scende le scale in questo momento vedete fa questo movimento con il mantello che è identico veramente identico a quello del film animato ma una cosa che ho visto qui e che mi fa fare due domande vedete lei scende le scale e a quanto pare qui in quest'ombra sembra di capire mi sembra di capire ragazzi che si trasformi lei direttamente nella vecchia ok per andare ad ingannare biancaneve se così fosse nel senso se davvero hanno fatto sì che lei si trasformi direttamente così con un colpo di mantello nella vecchia ragazzi ne sarei veramente molto delusa perché perché nel film animato ragazzi c'è una delle scene che forse più mi hanno traumatizzata ok dei vari film animati della disney che è quella in cui la regina cattiva prende il libro degli incantesimi e crea una pozione per appunto mutare il proprio aspetto e quella ragazzi secondo me è una delle scene più terrificanti terrificanti che io ancora se lo guardo oggi ragazzi veramente mi terrorizza in assoluto che la disney secondo me abbia mai creato e rendeva veramente l'idea cioè rendeva veramente l'idea della della malvagità della magia nera no anche perché c'erano quei momenti in cui diceva un urlo di terrore oppure come era risata di strega e si sentivano ragazzi le urla la risata cioè era una cosa veramente terrificante ma fatta talmente bene ragazzi che vedete adesso a raccontarla mi sono venuti i brividi ragazzi ok quindi se avessero deciso di non inserire questa cosa nel live action hanno fatto una cazzata passatemi il termine ragazzi monumentale perché veramente quella è una delle scene che più rimangono impresse di Bianca Neve e Sette Nani secondo me quando alla fine poi c'è anche la sua trasformazione ok quindi in cui si vede che le diventano i capelli bianchi in cui si vedono queste mani che diventano orrende e terrificanti e alla fine si vede questo volto di questa vecchia ragazzi che è veramente raccapricciante ok quindi è la scena madre secondo me di Bianca Neve e Sette Nani e che quindi se me l'hanno semplificata così riuscendo le scale faccio così col mantello e me trasformo nella vecchia non sono d'accordo assolutamente no quindi non so se magari questo è il risultato del fatto di ho preso la pozione già prima e quindi adesso mi posso direttamente trasformare ma non credo ragazzi sinceramente quindi se hanno tolto sta cosa non ci siamo poi quindi qua si vede appunto la vecchia si vede risfuggita oddio sembra abbastanza inquietante devo dire poi ovviamente quindi la mela che viene immersa nel calderone per diventare avvelenata e questo quindi dovrebbe essere il principe l'hanno fatto biondo con gli occhi azzurri di questo poco mi interessa sinceramente ragazzi quindi questa dovrebbe essere la scena in cui lei scappa nel bosco quindi ci sono tutti gli alberi terrificanti quindi c'è ragazzi di cose che assomigliano e questo è il momento in cui lei appunto poi terrorizzata anche se qua non mi sa lei lei piangeva nel film animato lei non mi sembra particolarmente terrorizzata ma vabbè in cui si risveglia nel bosco e alla fine incontra gli animaletti del bosco cosa che ho notato ragazzi è che non si chiama biancaneve i sette nani si chiama solo biancaneve ok quindi sni ragazzi sni pure questa scena comunque c'è riguardando veramente le stesse inquadrature anche quasi ho visto che ci sono insomma c'è un momento nella miniera il momento di lei che canta insomma riguardandosi nel riflesso del pozzo c'è vi dicevo appunto sni perché ci sono cose che mi hanno convinto e altre cose che mi lasciano perplessa appunto chissà non so tanto cosa dire ragazzi uscirà al cinema sinceramente non so se spenderci soldi per andare a vederlo addirittura al cinema perché comunque ovviamente poi sarà pubblicato su disney plus successivamente non so non so ragazzi mi ha lasciato internet più internet di quel che credessi sinceramente poi ovviamente ragazzi cgi a go go ma oggigiorno è così che va per i live action quindi che sia tutto cgi praticamente è cioè definirlo live action ragazzi mi sembra un po esagerato perché probabilmente tipo l'ottanta per cento del film è fatto in cgi quindi non lo so non lo so ragazzi non la so ok poi bisogna vedere come avranno reinterpretato le canzoni bisogna vedere se avranno fatto di biancaneve comunque personaggio da girl power che comunque in grado magari anche di salvarsi da sola di saper badare a se stessa e cose del genere perché oggigiorno è così che va quindi non so quanto c'è ci avranno messo anche questa cosa qua perché oggi appunto va così non so ragazzi questo video è durato un'eternità è durato molto più di quello che mi aspettassi però c'era da discuterne ragazzi c'era da discuterne da parlarne anche perché appunto a maggior ragione questo film ha fatto così tanto parlare di sé ancora prima che esca come un po tutto oggigiorno in effetti quindi da un lato sono un po curiosa devo essere sincera più di quanto per esempio lo fossi per la sirenetta mi intriga un pochettino di più più che altro forse per tutta la questione che è stata creata attorno appunto a questo film però appunto ragazzi mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti voi che cosa ne pensate perché sono estremamente curiosa di sentire anche i vostri pareri per cui chi vivrà vedrà ragazzi vedremo questa reaction termina qui grazie a tutti un bacione e abdoscio a tutti ragazzi da giocherina ciao